All'indomani della sfida tra Foggia e Juve Stabia, che ha visto i satanelli trionfare sulla capolista, che incassa così la terza sconfitta in campionato, l'interrogativo principale nel girone C è legato proprio alla riapertura o meno del torneo. Il Benevento nel derby campano di sabato sera ha battuto il Giuliano in rimonta fuori casa con il gol di Baldè iniziale che aveva fatto tremare i tifosi sanniti nella ripresa. La formazione di Auteri ha rimesso le cose a posto prima con il pareggio del solito Lanini e successivamente con un calcio di rigore procurato e trasformato da Ciciretti. Il Benevento fa il suo dovere, si riporta a meno sei dalla vetta e non può immaginare di restarci anche al triplice fischio dello Zaccheria. Sei punti con sei gare da giocare e soprattutto con lo scontro diretto dell'otto aprile del Vigorito da assumere con torni sempre più thriller per il finale di campionato. La compagine sannita in caso di successo con due reti di scarto potrebbe anche ribaltare il ponteggio negli scotti diretti e portarsi in vantaggio sulla squadra di Pagliuca rendendo tutto ancora più aperto. Un cammino da paura dall'arrivo di Auteri capace di infilare 13 risultati utili consecutivi con 9 vittorie e 4 pareggi meritando a questo punto la chance di giocarsi il primo posto fino alla fine. Il prossimo turno sembra abbordabile per entrambe anche se il Benevento ospiterà il Monopoli del Vigorito e le Vespe andranno in trasferta in casa del Sorrento. Tutto ancora in gioco con il Crotone che però nel frattempo perde la quarta partita su 5 e disputata con Baldini in panchina e il tecnico che ha valutato anche le dimissioni.